Back in ETV Bentornati su Balconi TV Sassari, io sono Laura e oggi con noi... Chi sono io? Ciao! Voilà, ciao a tutti! Che ci fai sentire? I suoi frutti! Prego, enjoy the show! Se siamo tutti pazzi, allora non c'è più il problema di capire e interpretare questa realtà. E poi è così bello tutto il mistero che ci circonda, perché vuoi rivelarlo? Se puoi pensare al domani, puoi ignorare perché tu sei qui, facciamo finta di essere così, infinitamente prevedibili. E poi vuoi dirmi cosa sono tutte queste pretese di buona volontà e di responsabilità? Se puoi pensare al domani, puoi ignorare perché tu sei qui, dai facciamo finta di essere così, definitivamente inconsapevoli. Davidi, insensibili, egoisti, indifferenti, solti molto stupidi, violenti, falsi, ipocriti, vittime o carnefici, ladri ingordi e meschini, infedeli vampiri senza un'anima. Arroganti e pesmitosi, insicuri e gelosi, invidiosi, peni di rabbia, malpensanti, cronici, ossessivi, viziosi e morbosi, compulsivi, figri, apatici, vanitosi, Senza pietà, senza neanche un bricio di dignità, diventà intelligenza e rispetto, gratitudine e riconoscenza per la vita e la sua essenza. Tanto presto e tardi ci muore tutti e così che la terra dai suoi frutti. Chi sono io? Grazie mille e complimenti. Grazie, grazie a voi. Allora, i suoi frutti. È un brano che fa parte del tuo nuovo progetto, primo progetto da solista. Parlacene un po'. Sono dei brani che ho tenuto nel cassetto per un po' di tempo e adesso è venuto il momento di trarli fuori, insomma. Mi pare anche giusto, no? Certo. Bene, benissimo. Ascolta, dove possiamo andare a informarci un po' di più, a leggere qualcosa su di te, a ascoltare altro? Allora, su Facebook, pagina Chi sono io? col punto interrogativo e su YouTube Chi sono io nel tubo. Benissimo, perfetto. Io ti ringrazio di essere stato qua con noi, vogliamo assolutamente ascoltare presto il tuo album, quindi forza, forza, forza. Benissimo. Allora, ci vediamo alla prossima. Io sono Laura. Chi sono io? Ciao a tutti. Alcuni TV Stassari. Ciao. Alcuni TV Stassari.